Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi 14 di agosto 2019 Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà e gloria e onore a Dio nostro Padre Onipotente Ave Maria Bene fratelli e sorelle intanto benvenuti nella nostra nuova trasmissione e come avete visto dalla locandina, dalla miniatura abbiamo scritto Tutto cambierà, cioè tutto fratelli e sorelle sta per modificarsi dal più alto dei cieli, fratelli e sorelle diciamo da cielo qui nostro, non nel paradiso ma qui da noi Fino a sottoterra fratelli e sorelle, qui cambierà tutto fratelli e sorelle perché stiamo in questa epoca del precambiamento Cioè stiamo in epoca apocalittica, in epoca che modificheranno determinate cose come sappiamo la liturgia eccetera 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 Ma modificherà tutto fratelli e sorelle, non è che si modificherà solamente dentro la chiesa ma si modificherà all'interno della chiesa e fuori dalla chiesa Perché tutto non corrisponde più con Dio fratelli e sorelle come possiamo vedere quindi a Dio Padre Onipotente l'abbiamo abbandonato E tutto dovrà cambiare fratelli e sorelle con la grande purificazione tutto quello che dovrà avvenire Oggi leggiamo fratelli e sorelle tre messaggi in riferimento di questi eventi che dovranno come sapete poi accadere E fanno esplicemente riferimento tre messaggi Il primo Annemewis della Germania 20 giugno 2019 E che cosa c'è scritto Lasciatevi guidare completamente e siate obbedienti a me Padre Celeste che vi amo infinitamente E vorrebbe che nessuno vada perduto L'inferno è crudele miei cari e per ogni uomo io il Padre Celeste combatto fino all'ultimo istante Il male è ancora oggi astuto e combatto anche per i suoi seguaci che si sono impegnati con lui Ma credetemi è nelle fasi finali Sente che è presto finito il suo tempo nel quale può ancora attirare i tiepidi dalla sua parte Sfortunatamente molte persone non si rendono conto di essere guidate dal maligno perché nemmeno lo riconoscono Miei amati figli, ritornate alla vera fede cattolica C'è davvero solo una vera fede cattolica e apostolica Colui che rimane nel mio amore ha anche lo Spirito Santo Anche gli angeli sono importanti Invocateli perché vogliono essere pregati Il tempo è maturo carissimo e nel quale apparirò in grande potenza e gloria nel firmamento Vi ho già dato tanti segni Quindi vedete, tutto cambierà fratelli e sorelle Quindi è per questo che i tempi sono questi Fratelli e sorelle Bisogna solamente affidarsi al Signore Gesù Pregare e rimanere ovviamente con Gesù Messaggio di Anguera, 24 giugno 2019 E dice questo Cari figli, imitate Giovanni il Battista Ovviamente nella difesa della verità Lui non si corvò Ne rimase in silenzio davanti ai grandi errori Se vi ricordate con erode Ha detto quello che gli doveva dire fratelli e sorelle Ma abbracciò la piena verità di Dio Vivete nel tempo dei dolori Ascoltate la voce del Signore che grida nei vostri cuori Difendete la verità La Chiesa del mio Gesù oggi ha bisogno di molti consacrati Che con coraggio, con il coraggio di Giovanni il Battista ovviamente I miei poveri figli vivono ciechi spiritualmente Ed è arrivato il momento di incamminarvi senza paura Nella via della salvezza Che si incontra unicamente nella Chiesa di mio figlio Gesù Quindi nella Chiesa Cattolica fratelli e sorelle Non temete Voi appartenete al Signore Consegnate a Lui la vostra esistenza La grande persecuzione a quelli che difendono la verità Sarà intensa E molti e miei poveri figli saranno trattati come nemici Quindi ci sarà una grande persecuzione fratelli e sorelle Prima che tutto cambierà eh fratelli e sorelle ovviamente Ci sarà una grande persecuzione A quelli che difendono la verità di Cristo Sarà intensa E i miei poveri figli saranno trattati come nemici E aggiunge Rimanete con Gesù Fortificatevi in che cosa? Nella preghiera Nel sacramento della confessione E nella Santa Eucaristia Quindi andiamo alla Santa Messa fratelli e sorelle Lì bisogna andarsi Bisogna andare per aumentare la fede Aumentare il coraggio Aumentare tutto quello che il Signore ci dona Pregate molto davanti alla Santa Croce Perché solamente così sarete capaci di vincere il male Fatevi piccoli come il Battista E sarete grandi agli occhi di Dio Avanti nella difesa della verità Vedete messaggi abbastanza Vedete Forti E al tempo stesso Che definiscono i tempi in cui viviamo Fratelli e sorelle Cioè tempi propri apocalittici Fratelli e sorelle Ultimo messaggio del giorno È Trevignano Romano 22 giugno 2019 Questo è stato fatto in cenacolo In un cenacolo di preghiera a Verona E la Vergine Maria qui ha detto Figli adorati Perché ancora fate soffrire mio figlio Gesù? E lì la Vergine Maria mi ha fatto vedere Un cuore che aveva tra le mani Ed era sanguinante Guarda Il cuore di mio figlio sanguina Per le sofferenze di tutti i giorni E non estante tutto Continua a inviare misericordia Per i figli miei prediletti Figli miei Presto tutto cambierà Quello che è il titolo della trasmissione Presto tutto cambierà Tutto cambierà La Chiesa L'umanità Il mondo Purtroppo non sono più in sintonia con Dio Padre Quindi sia la Santa Chiesa Fratelli e sorelle Che l'umanità Che il mondo stesso Non è più in sintonia con Dio Padre Onnipotente Cioè con il Dio Padre Misericordioso Con il Dio Giusto Il Dio Padre Con Dio Padre Poi lo dice Con Dio Padre Poi lo dice Che Dio è Padre Con Dio Padre Tanti saranno gli accadimenti Che porteranno cambiamenti Quindi vedete che Come dice il messaggio Tanti saranno gli accadimenti Che porteranno cambiamenti Ma voi pregate Pregate tanto figli miei Perché tutto si può miticare Cioè Gli avvenimenti Arriveranno Perché Non è che dice Non ci saranno gli avvenimenti Gli avvenimenti ci saranno Fratelli e sorelle Ma si può miticare con la preghiera Cioè Sarebbero meno forti Però guardate che Gli accadimenti Purtroppo ci saranno E saranno terribili Perché dice Porteranno cambiamenti Ma che cosa di cambiamenti Il cambiamento spettacolare Sarebbe quando verrà Gesù Fratelli e sorelle Sarà quando verrà Gesù Ma questi cambiamenti Prima del suo ritorno Cioè Prima che ritorna Gesù Devono avvenire Dei cambiamenti negativi Con cui la purificazione Sarà ancora più forte Prima del suo ritorno Prima del suo glorioso ritorno Quindi cambiamenti All'interno della Chiesa Come abbiamo parlato In tante puntate Ci saranno Fratelli e sorelle Nella Chiesa Nel mondo Nell'umanità Quindi sarà Tutto un insieme E dobbiamo Solamente Pregare Ci invita la Vergine Maria Non dobbiamo fare altro Pregare 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 Bene fratelli e sorelle Dio vi benedica Sia lodato Nostro Signore Gesù Cristo Sia fatta La sua santa volontà Dio vi benedica E Ave Maria Se potete Se volete Seguiteci Nel nostro canale Iscrivendovi Con la campanella A questo piccolo canale Dedicato al Signore E se potete E poi E poi anche Quelli del giorno dopo E così via Bene fratelli e sorelle Dio vi benedica Sia lodato Nostro Signore Gesù Cristo Sia fatta La sua santa volontà Santa giornata A tutti voi E Ave Maria Grazie a tutti